Andiamo al discorso dove l'avevamo interrotto la settimana scorsa, su quel passo di Kant che dice «è certo che fra le cause nel fenomeno nessuna è tale da poter iniziare una serie da sé assolutamente». Dal punto di vista fisico, perciò dice Kant, la libertà si riduce ad un mero ente di ragione, cioè un concetto vuoto in pratica, o ad una chimera. E perché, scrive poco dopo, nella connessione temporale di fenomeni e vanno sperare di incontrare un atto originario che dia luogo a qualcosa che prima non esisteva. In altri termini, nella serie dei fenomeni c'è una serie di cause, ciò che avviene prima provoca ciò che avviene dopo e ciò che avviene dopo è determinato da ciò che era prima. Ma non c'è nessuna libertà perché le cause sono determinanti. Un atto originario sarebbe invece una causa libera, per l'appunto, che avrebbe degli effetti senza essere determinata a propria volta. Nel campo dei fenomeni, determinato dal tempo e dallo spazio, non ci può essere nessuna libertà se non come concetto vuoto. E questo è quello che abbiamo visto poi costituire la difficoltà per molti filosofi più recenti che hanno cercato di contemporare la libertà con la causazione scientifica, trovando molte difficoltà, come abbiamo visto nella prima parte del seminario. Certamente Kant non ha torto quando dice che se i causati sono fenomeni, devono essere fenomeni anche le cause, ma allora non si esce dal regresso all'infinito che mette in gioco la ragione contro se stessa dal punto di vista ignosologico ed esclude ogni libertà. Perché? Perché ogni causa deve avere un causato e così si arriva all'infinito, ma tutto l'insieme non è consistente, per così dire. Non è mai cominciato. O non è invece possibile, si chiede Kant, a pagina 447, che pur richiedendosi infallantemente per ogni effetto nel fenomeno una connessione con una sua causa in base alle leggi della causalità empirica, questa stessa causalità possa ugualmente essere l'effetto di una causalità non empirica, ma intelligibile, senza che per questo risulti minimamente inclinata la sua connessione con le cause naturali. In altri termini, Kant fa qui l'ipotesi che, oltre alle cause naturali, ci possa essere una causalità non empirica, ma intelligibile, che sfugga alle determinazioni dei fenomeni e quindi al regresso all'infinito. E' chiaro che Kant sta cercando qui una connessione che non sia necessitante fra la causa e l'effetto, fra il conoscente e il conosciuto, fra il soggetto e l'oggetto, fra la ragione e la natura e così via. E' chiaro che questo terzo, e questo termine che usa Kant, non può essere altro che un atto, un atto originario, come scrive Kant, anche se non tutte le produzioni di effetti sono effetti di un atto, di un atto libero, ma possono essere effetti semplicemente di cause meccaniche. Come il fatto che la mattina sorge il sole, il sole sorge perché la Terra gira in un certo modo, e quindi il cielo si rischiara per effetto di una causa meccanica non modificabile. E non perché qualcuno decida di illuminare il cielo. Però, in Kant, non troviamo che questo atto, che pure nomina spessissimo nel suo testo, abbia una consistenza autonoma dal lente che causa o dal lente che è causato. Non possiamo trovare, dice, un atto originario. E l'atto originario sarebbe non soltanto l'atto che darebbe inizio alla serie di tutte le serie, di tutte le cause. Abbiamo visto l'esempio del Big Bang due seminari fa. Oppure può essere una libera decisione che qualcuno prende, come dice Kant, se io mi alzo dalla sedia in questo momento, questo provoca una serie di effetti causali che si trasmetteranno all'infinito e che non si provocano se io non mi alzo dalla sedia. Quindi c'è un parallelo che Kant accoglie perfettamente fra la libertà dell'atto di qualcuno e la libertà di un inizio originario del tempo e dello spazio. Fra un atto di creazione assoluto, per così dire, e l'atto di libertà di qualcuno. E' curioso che il concetto di atto in tutta la tradizione occidentale non sia mai stato valutato nella sua autonomia dall'ente e dalla parola, come invece è accaduto nella tradizione neoplatonica e greca. Tuttavia, nella tradizione trascendentale, la questione dell'atto si pone in modo molto evidente. Per lo meno, se si interpreta nel senso dell'atto, il cogito cartesiano. Abbiamo una serie di passaggi attraverso i secoli che possono essere Sant'Agostino o Sant'Azelmo d'Aosta quando provano ontologicamente l'esistenza di Dio, per esempio, che può essere il cogito ergo sum di Cartesio, con il quale Kant si riconnette in modo molto evidente e con il quale si riconnetterà con ancora maggiore evidenza Husserl. Quando dico che il cogito può intendersi come atto, ebbene, perché sembrerebbe in tutta questa tradizione che sia il pensiero, il fatto di pensare a determinare l'essere, nella tradizione idealistica che rimotta da Platone fino alla teoria della scienza contemporanea, ma non si vede in questo che il cogito varrebbe come prova dell'essere semplicemente perché è un atto. Se agisco, se faccio qualcosa, ebbene, sono allora certo di essere, sia se cogito, sia se vado al passeggio, sia se vado al cinema o mi gratulo a testa. Se sono certo di compiere un atto, sono certo anche di essere, perché l'essere e l'atto si connettono inestricabilmente all'uno con l'altro. Però questo Kant non lo dice. Interpreta, invece, la libertà a partire da qualcosa che ha a che fare, come vedremo, che non è altro che l'imperativo etico. Il devi fare qualcosa. Ma ci arriveremo. Se volete, è per questo che, per quanto la riflessione di Kant sia un meccanismo assolutamente importante nella tradizione occidentale, proprio perché in qualche modo dimostra che c'è una libertà. Tuttavia, il rischio dell'operazione kantiana è di interpretare la libertà in termini di obbligo morale. Insomma, è una libertà alla prussiana, vestita da soldato del Kaiser, per così dire. In Kant non c'è ancora questo rischio, perché Kant è molto illuminista ed è un accanito internazionalista. Ma il rischio della versione tedesca peggiore, in qualche modo, nel testo di Kant c'è. Ma vediamo come Kant arriva alla funzione dell'imperativo. Scrive due pagine dopo. Ora che la ragione sia in possesso di una causalità o che almeno noi ce la rappresentiamo, come tale, appare chiaro dagli imperativi che nell'intero dominio pratico assegniamo come regole alle nostre attività. In altri termini, è come se Kant dicesse se noi adottiamo degli imperativi di comportamento, per cui distinguiamo il bene e il male, il delitto dall'azione lodevole, eccetera, eccetera, questo vuol dire che una libertà c'è, perché senza libertà non ci sarebbe nessuna possibilità di elaborare un imperativo. Vedete, insomma, è che Kant fa un giro più lungo giungendo a dedurre la libertà dal fatto che c'è una regola che limita la libertà. Il dover essere, continua, esprime una specie di necessità e di connessione con fondamenti che non si presenta in nessun altro luogo nell'intera natura. Insomma, questo fatto che è specifico degli esseri umani di riferirsi ad un dover essere e un'eccezione assoluta. In natura non c'è nessun dover essere, ci sono solo le cose che avvengono e che hanno delle conseguenze, punto. Questo, il dover essere, costituisce un marchio assoluto che è soltanto degli esseri umani. E però vedete che Kant continua in qualche modo ad esitare. Parla di una specie di necessità, di connessione con fondamenti. Una specie di necessità perché qui non si riferisce ad una causa naturale necessaria. Ora, se c'è una causa naturale, non c'è nessuna libertà. Però la causa è assolutamente necessaria in questo caso. Se c'è una libertà, c'è una specie di necessità che non è una vera necessità perché naturalmente tutti gli esseri umani possono commettere più atroci delitti e questo non contraddice in nulla la necessità naturale. Insomma, fa una specie di ragionamento per absurdum, Kant. Se c'è una legge che toglie una libertà, allora ne possiamo dedurre con sicurezza che ci deve essere una libertà. Insomma, è come dire che è come la sorella del delinquente e del legislatore. All'origine tutti i legislatori, i fondatori di entità politiche magari erano delinquenti, che però a un certo punto hanno fondato lo Stato, sono diventati sovrani. Se voi fate caso a Romulo e Remo, per esempio, insomma, il delinquente lì, è chiaro che Roma è fondata su un fretto rigido. Orbene, dice Kant, nell'ipotesi che la ragione possegga una causalità rispetto al fenomeno, sarebbe possibile ritenere libera la sua azione pur risultando essa nel suo carattere empirico, modo di sentire rigidamente determinata e necessaria. Insomma, capite cosa si sta chiedendo Kant? Se tutte le cause dei fenomeni sono necessarie, a fianco a questo è possibile interpretare come libera una serie di cause e di fenomeni che procedono però da un atto non necessario? Questo carattere, questo carattere empirico, continua Kant, è a sua volta determinato dal carattere intelligibile, modo di pensare, il quale tuttavia non può essere conosciuto, ma si forma attraverso i fenomeni. Questi però non ci fanno immediatamente conoscere che il modo di sentire carattere empirico. Insomma, quando noi pensiamo a quello che noi facciamo, considerando empiricamente i nostri pensieri, le nostre azioni, le pensiamo sempre come fenomeni e non siamo mai sicuri di poter conoscere in questo il principio del nostro atto, se non come atto necessario. E guardate bene, questo è un punto importante che riprenderemo dopo, perché dal punto di vista etico è fondamentale. Insomma, quando noi agiamo, vediamo gli effetti empirici dell'atto che compiamo, però non sappiamo niente dei veri motivi del nostro atto, se non in quanto ce ne facciamo un concetto appunto fenomenico. Infatti, Kant aggiunge in una notte, l'autentica moralità delle azioni, merito e colpa, persino quella del nostro stesso operare, ci resta pertanto del tutto nascosta. Insomma, facciamo un esempio che poi magari riprenderemo dopo. Se troviamo un poveretto che ci tende la mano per chiederci la carità e noi gli diamo un euro, gli diamo un euro per togliercelo davanti perché ci rompe le palle o gli diamo un euro per amore del prossimo? Non lo possiamo mai essere. Di questo non possiamo mai essere sicuri. Perché se anche pensiamo che diamo un euro perché siamo tanto bravi cristiani, amiamo il prossimo tuo come te stesso, non possiamo dircelo perché se ce lo diciamo diventiamo presuntuosi. Quindi andiamo fuori dal compito etico. E questo non lo dice Kant nei termini in cui ve lo sto dicendo io, ma il problema che si pone mi pare chiaramente questo. È come se la moralità non potesse che rimanere è nascosta nelle nostre stesse decisioni. Se io dico che ho fatto un atto giusto, il fatto stesso di dirlo nega che sia stato giusto. Perché attribuisco ad un potere libero che non può avere il mio me che è determinato casualmente quello che ho fatto. Se voi ci fate caso, quando Cristo, che pure è figlio di Dio e bla 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 e fa i miracoli, e noi i miracoli mica succedono da soli, non succedono se non c'è lui, però non dice mai io ti ho fatto il miracolo, vai perché io ti ho guarito. Dice vai, la tua fede ti ha salvato. Cioè se c'è stato questa eccezione alla serie delle cause, il merito è tuo, non è mio. Canto non cita nella critica della ragione pure questo episodio che si ripete infinite volte nei Vangeli, ma è la struttura logica la stessa. Scrive Kant sempre in nota l'autentica moralità delle azioni merito e colpa persino quella del nostro stesso operare ci resta pertanto del tutto nascosta. Le nostre valutazioni possono riferirsi soltanto al nostro carattere empirico, ma nessuno sarà mai in grado di stabilire, quindi neppure di giudicare in modo equo, in quale misura il puro effetto dipenda dalla libertà e in quale dalla semplice natura e dalle manchevolezze non imputabili del temperamento oppure dalla sua felice costituzione merito fortuna. insomma, quando noi valutiamo le nostre azioni non siamo in grado di vedere se esse scaturiscono da un'autentica moralità e quindi sono libere oppure se sono determinate dalla nostra capacità e da nostri difetti sensibili. insomma, non possiamo affermare che siamo stati gli autori liberi di un atto giusto senza falsificarlo. E questa cosa non a caso vi facevo prima l'esempio evangelico del miracolo perché c'è una sola situazione nel mito della giustizia dell'atto dell'atto santificante che è il giudizio finale. Nessuno può mai dire io sono giusto che uno sia giusto o dannato che abiti nella città celeste o sia perseguitato dai diavolacci tutto il tempo lo si saprà soltanto nell'ultimo giudizio quando il giudizio che ciascuno avrà formulato sagli altri sugli altri ricadrà sulla sua testa perché persino nell'ultimo giudizio Cristo dice non sono venuto per giudicare. l'azione per quanto è da attribuirsi al modo di pensare scrive Kant in qualità di sua causa cioè di causa dell'azione non deriva da essa dalla causa secondo leggi empiriche ossia non precedono le condizioni della regione pura ma soltanto gli effetti di esse nel fenomeno del senso interno cioè se noi consideriamo i nostri pensieri i nostri atti come fenomeni per esempio perché li percepiamo con il senso interno considerando per esempio se le damo un euro perché ci rompe le balle il medicante o perché amiamo il prossimo anche in questi casi non possiamo che valutarli all'interno di una serie causale effettiva e sempre naturale così come la scienza valuta i fenomeni senza poter mai dire che vengono davvero da una scelta libera quindi possiamo supporre che c'è della libertà ma non possiamo mai riconoscercela l'enunciato io sono libero e se voi ci fate caso è un enunciato particolarmente problematico anche dal punto di vista clinico di solito io sono libero introduce immediatamente ad una dipendenza isterica o addirittura sul versante della tossicodipendenza del gioco ad azardo eccetera eccetera non c'è niente che distrugga tanto le libertà quanto la presunta assunzione della libertà Ettore è il famoso smetto quando voglio sì esattamente allora attorno a che cosa sta girando Kant e lo dice in seguito lo dice chiaro e tondo scrive per la sua natura di facoltà intelligibile la ragione non deve sottostare alla forma del tempo la ragione è diversa dall'intelletto naturalmente neppure quindi alle condizioni della serie temporale la causalità della ragione nel carattere intelligibile non sorge cioè non si costituisce in un determinato tempo per produrre un effetto insomma papale papale perché la dice proprio così la ragione a differenza dell'intelletto non è temporale non è causale ma è sovratemporale quando tu ragioni sei superiore a tutto ciò e si produce in altri termini una discontinuità radicale nel campo del in qualunque campo in realtà nel campo della causalità nel mondo nel mondo stesso se siamo liberi allora c'è una rottura c'è una discontinuità radicale se così non accadesse infatti saremmo di nuovo nel campo dei fenomeni in cui non c'è libertà scrive di nuovo potremmo dunque dire se la ragione può avere una causalità rispetto ai fenomeni essa è la facoltà che dà un primo inizio alla condizione sensibile di una serie empirica di effetti infatti infatti la condizione che ha luogo nella ragione non è sensibile e non ha quindi un inizio essa stessa si dà allora quello che non fu possibile riscontare in alcuna serie empirica che la condizione di una serie successiva di eventi come cosa succede se io decido di alzarmi dalla sedia questo lo dico io fra parentesi che la condizione di una serie successiva di eventi possa essere empiricamente incondizionata qui infatti la condizione sta fuori della serie dei fenomeni essendo nell'intelligibile e sfugge alle condizioni empiriche e da qualsiasi determinazione temporale di cause precedenti tuttavia questa stessa causa per un altro aspetto rientra nella serie dei fenomeni vedete che Kant sembra esitare prima descrive una rottura radicale per cui tutta la serie delle cause va a farsi friggere e poi dice però fate attenzione perché la serie delle cause è tutta lì quindi non perdete non perdete la ragione sulla strada di pensare di avere accesso a qualche verità rivelata insomma Kant non è un mistico sembra che ci arrivi ad una sua paradossale mistica tenendosi tutti i pesi tutte le zavorre che lo tengono fermo al concetto tutto sommato illuministico della ragione se per un verso la ragione sta nei limiti causali della determinazione nei quali non c'è libertà per un altro verso però sta fuori dalla serie dei fenomeni essendone l'intellegibile e sfugge alle condizioni empiriche e da qualsiasi determinazione temporale di cause precedenti pagina 452 se così non fosse non ci sarebbe nessuna antinomia della libertà ricordate tutto il discorso di Kant e che se noi diciamo che non c'è libertà allora diciamo anche che non c'è necessità queste cose ve le avevo riassunte all'inizio la ragione non è un fenomeno e quindi è superiore ai limiti essenziali nella causalità in quanto tale è libere cioè in quanto non determina causalmente temporalmente non determinata causalmente temporalmente la ragione interviene dice Kant come la facoltà di dare spontaneamente inizio ad una serie di eventi in tal modo nulla ha inizio nella ragione come tale ma questa invece in quanto condizione incondizionata di ogni azione volontaria non tollera sopra di sé condizione di sorta che la preceda nel tempo il suo effetto però al suo inizio nella serie di fenomeni pur non potendovi costituire un inizio assolutamente prima insomma insomma in termini biblici potremmo dire che Adamo è stato creato a immagini di Dio ma certamente non è Dio e non può pretendere di essere però questa contraddizione della regione che per un verso assoluta e per un altro verso determinata apre la possibilità di tutti i saperi valutativi dell'etica della morale del diritto della politica e così via dell'economia eccetera è per questo che Kant fa seguire un esempio un comportamento menzognero che non è condannabile se non perché si suppone che la ragione sia libera di agire indipendentemente dalle sue cause la ragione è presente unica in ogni azione dell'uomo in ogni momento del tempo tuttavia essa non si trova nel tempo e non viene a trovarsi per così dire in un nuovo stato in cui prima non fosse insomma il sovratemporale irrompe nel tessuto compatto della cosalte e se così non fosse non ci sarebbe nessun motivo per distinguere il bene dal male per avere un'etica una morale eccetera eccetera però Kant è molto prudente non si avventura mai nel decidere dell'indecidibile la ragione è presente e unica in ogni azione dell'uomo scrive in ogni momento del tempo tuttavia essa non si trova nel tempo e non viene a trovarsi per così dire in un nuovo stato in cui prima non fosse e non a caso aggiunge a questo capitolo una breve sezione che inizia così è necessario tenere presente che non abbiamo voluto mostrare la realtà della libertà e poco dopo la libertà viene qui in questione semplicemente come un'idea trascendentale attraverso la quale la ragione pensa di dare un inizio assoluto tramite il sensibilmente condizionato alla serie delle condizioni del fenomeno e qui la ragione entra in un'antinomia con le leggi che essa stessa prescrive all'uso empirico dell'intelletto che una si fatta antinomia appoggi su una semplice pervenza e che la natura non risulti in contraddizione con una causalità fondata sulla libertà era l'unica cosa che fossimo in grado di dimostrare e l'unica d'altra parte che ci stesse a cuore di dimostrare insomma Kant dice anche la filosofia crescendentale arriva da qui fin qui non la spostare dopo perché sennò ti mette in contraddizione neppure la filosofia può capire tutto non so se sono riuscito a spiegarmi per cercare di tradurre in modo in più immaginabile riprendo l'esempio della dell'elemosi dicevo se regalo un euro posso farlo per motivi diversi sia perché mi sembra giusto farlo sia per obbedienza ad un criterio morale legale e anche nei Vangeli è così le parole di di Cristo sono quando fai l'elemosi non sappia la tua destra quello che fa la sinistra cioè neanche tu devi dire ti sto facendo l'elemosi non ti devi attribuire nessun merito di questo devi farlo e basta come faccio però a sapere se faccio un dono perché mi riconosco nel bisogno del prossimo nell'amore del prossimo e così via o se faccio lo faccio solo per conformismo per ostentazione per esempio non è l'atto in sé che determina la cosa e badate bene finché si tratta di un euro la cosa è anche abbastanza semplice tutto sommato non ti costa dire anche dare un euro al tizio che trovi per stare e però nel caso della morale di cui si tratta nei Vangeli ebbene la cosa non finisce lì perché nella posizione c'è quel famoso episodio del Vangelo a Matteo secondo Matteo in cui c'è il giovane ricco che chiede come raggiungere la vita eterna e Cristo gli dice segue i comandamenti e lui dice io già lo faccio allora Cristo ma non mi basta allora Cristo gli dice se vuoi essere perfetto va vendi tutto quello che hai dallo poveri e seguimi il giovane ricco non non lo fa Cristo dice più facile che un cammello passi per la crona di un ago piuttosto che un ricco vada in paradiso la sapete avrete sentita centomila volte no? e questo concetto della perfezione della teleiotes che mi preme di sottolineare la teleiotes alla perfezione nessuno se la può attribuire quando Pietro gli chiede che cosa avremo noi che ti abbiamo seguito lasciando tutto la risposta di Cristo è ancora più netta la fine dell'episodio del giovane ricco in verità vi dico che voi che mi avete seguito nella rigenerazione palingenesia palingenesi che sarebbe quando il figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria siederete anche voi sopra dodici troni per giudicare le dodici tribù di Israele e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figlio o campi a causa del mio nome riceverà il centupolo e possiederà la vita eterna e questa è la matricia rappresentazione di tutti i giudizi universali in cui c'è Cristo in mezzo dei dodici apostoli e tutti scherati in bell'ordine e insomma l'etica cristiana è questo vai lascia tutto e riceverai il centupolo dove chiaramente in un tempo assoluto nella vita eterna dopo che l'angelo avrà mangiato il rotolo del tempo e non vi consiglio di andarlo a raccontare ai vostri analizzanti in me l'intesa perché i quali vogliono avere una vita decente al di qua dell'apocris e credo che ne abbiano anche qualche qualche diritto certamente Kant insomma non è un santo ma è un filosofo ed è un filosofo molto ragionevole che capisce benissimo che alla critica della ragione pura doveva aggiungersi una critica della ragione pratica va bene vi lascio su queste considerazioni epocalittiche spero di non avervi spaventati troppo però quando si parla della libertà insomma è un oggetto molto scomodo perché o è una balla e allora è uno strumento di oppressione oppure si va diritti diritti al giudizio universale cioè alla formulazione di un giudizio che che noi non possiamo dare spero di essermi di essermi fatto capire la volta scorsa e questa volta poi torneremo su temi un po' più concreti del resto Luca Lupo ci parlerà la settimana prossima di Schopenhauer e poi torneremo insomma ecco mi sa che beccheremo un'altra razione una doppia razione di trascendente in maggio anche la prossima dopo di che però basta torniamo anche qua l'olio di ricino della trascendenza non sia mai se posso fare un'osservazione Ettore a proposito dell'oscillazione di cui parlavi di Kant tra stare dentro i confini dell'intelletto e cercare di vedere quali sono le ragioni della ragione che è caratterizzata da una aspirazione che ha a che fare con la dimensione chiaramente inconscia nel senso che Kant attribuisce alla ragione un usa un'espressione particolare nell'introduzione alla critica alla ragione pura è caratterizzata da un'incessante aspirazione ed è paradossale perché alla ragione che dovrebbe essere dunque come dice la parola stessa qualcosa che ha profondamente a che fare con la capacità di dare conto e di trovare misure e di misurare e ha a che fare con l'atto stesso e misurare la ragione è mossa caratterizzata diciamo che fa parte della natura della ragione l'avere un'incessante aspirazione e dunque Kant dice in maniera inequivocabile in questo modo che la ragione è legata alla dimensione del desiderio e lo dice proprio all'inizio assolutamente sì all'inizio è ragion pura cioè la ragione è caratterizzata da un'incessante aspirazione e in questo modo sta dicendo chiaramente che la ragione è irrazionale è un'evidente dichiarazione preliminare sulla natura della ragione su questo crinale di oscillazione tra irrazionalità della ragione e razionalità dell'intelletto perché di questo si stiamo trattando l'intelletto che può operare sull'esperienza sensibile ha effettivamente opera effettivamente in maniera razionale la ragione che opera su concetti opera su idee opera nella dimensione del sovrasensibile è caratterizzata da questa cifra dell'incessante aspirazione che la fa uscire fuori dai suoi che non le fa avere limiti la ragione è un intelletto che non ha limiti se vogliamo usare questa immagine alla differenza dell'intelletto che trova il limite nel mondo esterno ora una cosa del genere cioè Kant e Freud si inscrive su questa stessa linea quando al termine della trentunesima lezione sulla scomposizione della personalità psichica sta per introdurre ridisegna attraverso la seconda topica i confini tra ridisegna attraverso la seconda topica la prima topica e mostrando che l'io non coincide con la coscienza ma che ci sono parti dell'io che sono inconsce quando subito dopo avere detto questa cosa dice ci è anche facile a proposito della pratica analitica dice ci è anche facile immaginare che certe pratiche mistiche possano riuscire a rovesciare i normali rapporti fra i singoli territori della psiche cosicché per esempio la percezione sia in grado di cogliere eventi profondamente radicati nel lì o nell'eschele sarebbero altrimenti inaccessibili che non è qualcosa di molto diverso dal dire che si può che la ragione possa iniziare dei delle concatenazioni causali nella dimensione fenomenica non è molto diverso e poi continua che per questa via vi si possa che per questa via si possa giungere in possesso della sapienza suprema da cui ci si aspetta la salvezza e non è un caso che ecco anche Freud approdi a questa dimensione e quindi che per questa via si possa giungere in possesso della sapienza suprema da cui ci si aspetta la salvezza è lecito dubitare quindi ecco colpo al cerchio noi non possiamo seguire la dice certe pratiche mistiche fanno qualcosa di simile all'analisi ma noi siamo al di qua delle pratiche mistiche no c'è lecito dubitare che per questa via si possa giungere in possesso della sapienza suprema e poi subito dopo dice tuttavia bisogna ammettere che gli sforzi terapeutici della psicanalisi seguono una linea in parte analoga più chiaro di così veramente perché Freud era proprio kantiano non so quanto lo sapesse non so quanto l'avesse letto però certi temi credo che comunque gli erano arrivati però certamente aveva letto superare certamente c'è questa insomma è come si può vedere in questo testo questo movimento di apertura ritrarsi chiudersi rispetto a questa dimensione mistica e riaprirsi con una cautela ecco diciamo c'è questo movimento di fronte al problema poi di fatto dell'accedere a una dimensione libera dal fenomeno il punto è ma allora questo punto è sovrapponibile il concetto di inconscio col concetto di sovraessenziale non mi spingerei sino a questo scusate posso intervenire cerco di fare una domanda e fare tutte le suggestioni che mi sono venute anche dall'intervento di Luca perché anch'io stavo arrivando lì a dire allora esattamente su quel punto in cui Kant non si sbilancia lì ci arriva l'inconscio scusa scusa se ti interrompo per finire la risposta che stavano prima e vedremo perché non c'entra l'inconscio a partire dalla volta prossima dove parleremo non dell'inconscio ma della coscienza questo ve lo lascio la domanda era proprio in questi termini problematici perché allora a quel punto che cos'è l'inconscio perché allora su quel limite che poi la logica riprenderà come l'insieme tutti gli insiemi che non contengono se stesso no ecco allora la Kant lì dice vabbè lasciamo perdere l'inconscio è strutturato con un linguaggio no e il problema ritorna in quella che Luca Lupo un po' di interventi fa chiamava la trappola linguistica no che ti permette di spostare però mi veniva in mente proprio questa cioè se non ci fosse lì un salto cioè mettere il linguaggio a quel posto lì no come se fosse effettivamente eludere completamente nella questione del paradosso linguistico e cioè nel tentativo di dire quell'ultimo punto che è indicibile no rimandandola sul conto dell'inconscio quindi mi sento in sintonia col problema che introduce con la domanda che introduce Luca Lupo allora lì l'inconscio e il sovraessenziale sono per caso sovrapponibili e un'altra piccola sì il problema è che dell'inconscio come del sovraessenziale non si può dire che cosa sono se non essenzializzandoli traducendo l'inconscio in coscienza e il sovraessenziale in essenziale dopodiché quando le parli li hai persi esatto esatto e come sembrava una stupidaggine quell'esempio del tossicomere che dicevi tu prima no io sono libero e quello diventa immediatamente tossicodipendente ma dire avere la presunzione di dire io sono libero no vuol dire in fin dei conti io sono quel punto di eccezione che è indicibile che è una sciocchezza assoluta dire io sono libero però è come dire io sono Dio esatto è chiaro che nessuno lo può dire se ha un minimo di ragione la zucca mi sente? sì rispetto all'atto e alla dimensione apocalittica mi chiedevo se questa dimensione apocalittica non fosse possibile includerla in ogni atto nel senso che ogni atto riuscito ha comunque in sé una dimensione apocalittica di giudizio finale rispetto a un contesto in cui si è espletta magari l'atto però mette le cose al proprio posto un atto riuscito mi chiedevo se in quel senso si poteva considerare una dimensione apocalittica dell'atto sì sì ma anche no cioè possiamo dire che l'apocalisse è un mito e come tale è presentata non c'è il minimo non c'è il minimo dubbio no però siccome l'apocalisse è l'irruzione del sovratemporale nella chiusura del temporale in realtà in realtà l'apocalisse è in ciascun istante quindi è sicuramente vero che l'apocalisse si svolge in continuazione e per questo che nelle chiese la dipingevano sulla contrafacciata no? in modo tale che tutti che riuscivano dalla chiesa vedessero cosa le aspettava cosa le aspettava nel giorno stesso non chissà quando e tutto il cristianesimo è nato dalla questione del cateco cioè del motivo per cui l'apocalisse che dove sembrava immediata molti di voi la vedranno eccetera eccetera e in realtà poi non si svolgeva e che significava il cristianesimo è nato quando l'apocalisse è diventato un assoluto e cioè è diventata continua istantanea bisogna fare attenzione però a non tradurre il mito in quotidianità perché sennò si perde il mito e cioè insomma se a tutti noi importa tanto della libertà da poter sacrificare la vita la libertà e perché non siamo liberi e ciò lo possiamo anche dire non sono liberi se qualcuno si immagina che gli psicanalisti siano liberi campo a cavallo gli psicanalisti sono degli esseri umani come tutti gli altri e non non sono liberi però hanno questo moto campiano se volete per rivendicare il dovere della libertà dico il dovere non il diritto non so se le ho risposto ok grazie c'è qualche altra question se non vado troppo fuori dalle tematiche giustissime che riguardano la questione della libertà vorrei un po' tornare alle cose che sono state dette la volta scorsa ma anche conseguentemente questa volta e sulle quali rispetto alle quali mi domandi anche l'altra volta provavo a dire quando ti trovi davanti a dei bambini estremamente gravi quello che vedi è che la possibilità che nasca un pensiero sulla causalità va esattamente insieme con la possibilità che il bambino produca atti non ci sono bambini che producono atti con un senso con un significato che si articolano senza che il bambino conosca e riconosca mostri di comprendere la causalità quindi da questo punto di vista la possibilità della causalità e la possibilità della libertà come mi pare oggi sia stato detto anche in modo più preciso vanno sempre insieme impossibile veramente di giungere e allora diciamo grazie a questo seminario in questa settimana mi sono chiesta se si poteva fare un passettino oltre e allora magari le cose che sono sempre state sotto gli occhi appaiono piuttosto velocemente in fondo come dice Piaget ma come dice anche Lacan nel seminario 4 del quale però non sono riuscita più a ritrovare il punto il bambino a un certo punto il bambino normale nominando la scoperta della possibilità di una causalità ad esempio il bimbo che tocca per neonato stiamo parlando dei bimbi primi mesi che tocca per caso un campanellino non sa ancora che è lui che l'ha toccato e a un certo punto scopre che è lui che l'ha toccato e allora mi chiedevo se in fondo questo sovraessenziale ovvero l'atto perché l'atto nasce in quel momento lì in cui il bambino sa che è stato lui è bellissimo questo esempio che ha fatto alla fine del mal l'atto non è che l'inclusione del soggetto che produce conoscenza in fondo non è che un'inclusione assolutamente e questa inclusione del soggetto che produce conoscenza è quella cosa che permette a noi di dimenticare noi stessi nel nostro atto che è questa la libertà perché i nostri bambini autistici quello che non possono fare e per cui resta sempre incompleta è questa dimenticanza e quindi sono sempre estremamente in ansia estremamente vigili perché sanno in modo drammatico quello che noi ci possiamo dimenticare ripeto ha dato un'illustrazione molto molto precisa di quello che ha detto io certamente non avevo pensato ai bambini autistici quando ho preparato questo seminario però mi sembra estremamente significativo perché il fatto che il bambino non l'autista ma comunque il bambino non sa che è lui che fa suonare il campanello è in realtà quello che succede anche agli adulti quando Beethoven scrive la nonna sinfonia e non sa se è lui che scrive la nonna sinfonia non lo sa proprio perché viene a sapere che lui cioè non lo sa in quel modo proprio perché semplicemente si accorge che lui e quindi può dimenticare si può dimenticare di se stesso nell'atto e questo lei lo dice benissimo del motivo per cui volevo riprendere addirittura la prima versione del tempo etico ma su questo punto identica anche la seconda quando parlando di Kant sottolinea fortemente questo punto che noi non possiamo che conoscere oggetti e anche ed è lì diciamo questa apertura importantissima rispetto alla possibilità di ragionare nei termini di una neuropsicologia che sia di tipo trascendentale sì c'è qualche altra questione una cosa se è possibile quando Kant parla della ragione di tutte le difficoltà di cogliersi nel suo punto originario dato apre qualcosa che ha a che fare col desiderio nella ragione pura non ne parla in realtà sta parlando di quello è tutto chiaro ma non lo nomina se non nei termini della incessante aspirazione di cui dicevamo prima inteso come punto che caratterizza in maniera essenziale la ragione cioè la ragione coincide con la incessante aspirazione poi non è un caso che Lacan ha scritto quell'articolo Kant con Sard perché se ci fate caso Sard assomiglia ben poco a Kant però non ci assomiglia ma per niente ma proprio per questo in realtà è come se facessero lo stesso discorso ma insomma questa questa è una questione su cui si potrebbe tornare no riflettiamo una cosa che Kant è nato a Kennesburg Schopenhauer è nato a Danzica Freud proveniva da una famiglia della Moravia che proveniva da una famiglia di ebrei che stava in Galizia cioè appartenevano a un mondo che è scomparso se ci fate caso con la seconda guerra mondiale questo questo mondo è stato completamente cancellato c'è una specie di veramente di come se ci fosse una maledizione no per cui non esiste più questa Germania Germania al confine che pure ha prodotto degli effetti straordinari c'è una cosa che non mi è chiara rispetto a quello che diceva Maria quando diceva Maria che cioè questo potere sentire da parte del bambino di essere lui a compiere l'atto no implica anche la possibilità di una dell'assunzione di una responsabilità rispetto al proprio atto nel bambino assolutamente no cioè nel bambino è la nascita semplicemente quello che mi sembrava apparisse chiaro è che la nascita dell'atto e la nascita della conoscenza sono la stessa cosa cioè l'atto è la conoscenza e lì appare sul punto originario no stiamo parlando di nessima responsabilità ok non questo dell'apertura dell'atto e quindi del gioco spontaneo dell'apertura del movimento del bambino è per questo che secondo me lo statuto nell'infanzia è sempre etico direttamente etico non ha e non ha a che fare con la libertà nel senso in cui ne stiamo parlando in questo seminario evidentemente Luca penso che la difficoltà sia dovuta come diceva Ettore prima al fatto che Kant diciamo così nasconde un po' la mar quando tira il sasso relativamente alla questione della contraddizione che lui stesso intende sottacere tra l'intellectus ectipus e quello archetipus di fatto lui dice quando la scienza diventa metafisica è impossibile che rimanga scienza cioè l'epistema diventa assolutamente impossibile e cioè se questa stanza dove ci troviamo è il pensiero lui vorrebbe bucare la stanza per oggettivare quel pensiero ma si rende conto che è un atto di pensiero ecco allora dove invece Schopenhauer interviene a modificare questo che era di fatto il residuo cartesiano duro del grande decostruttore cartesio perché in fondo l'intelletto è e rimane popolato di tutte le categorie aristoteliche tutte e la ragione deve compiere un salto di qualità necessariamente e allora ritorna a quello che giustamente fantasticamente ha detto Maria Mutata con il suo esempio è qualcosa di in qualche modo incolmabile e Kant lo aveva capito solo che non è facile risolvere tutte le aporie c'è qualcun'altro? con tanto una breve nota mi suscitava quando lei ricordava questi ambienti di Konigsberg e Kant eccetera in quadri di generazioni sono finiti allora se io cerco di riportare la discrasia intelletto ragione alla Kant cioè a un altro mondo mi sono chiesto dove pongo l'intelletto nel simbolico la ragione se giustamente è una incessante aspirazione allora la ragione va nell'immaginario ecco questo mi fa pensare che quella logica storica forse non è più la notte cioè se devo dire che la ragione sta nell'immaginario e beh qualche problema immaginario significa anche un certo modo di tener conto del mito un certo modo veramente incessante aspirazione allora davanti a questo per esempio noi dobbiamo anche tener conto che sulla ragione poi qualcosa Hegel ha detto in più di Kant ma stiamo sempre in quel mondo che forse non è più nostro adesso io non so se è giusto mettere la ragione dalla parte pensando alla Kant dalla parte del registro immaginario è una semplice domanda che mi faccio ma io non so se se la Kant forse la potrebbe intenderla così sicuramente io non faccio nessuna comunanza fra la ragione in questo senso e il registro immaginario faccio la connessione piuttosto fra la ragione e la parola logos e per questo citavo Hegel certo con Hegel la ragione diventa qualcosa in più dell'incestante aspirazione ecco era solo questo che pensavo è chiaro anche perché il cambio paradigmatico con Hegel l'ultimo grande metafisico sì c'è anche Heidegger però Heidegger ripercorre in buona parte il pensiero di Hegel è che per Kant c'è ancora la realtà rimane il fenomeno c'è per l'idealismo no la Kant se ne rende per conto e infatti introduce il reale cioè reintroduce la questione che Kant era arrivato a porre anche se in termini aporetici e Hegel non riusciva a risolverla se non dialettalizzando se non però togliendo la realtà cioè per l'idealismo la realtà non c'è è tutto nel pensiero è lo spirito del pensiero è lo spirito del tempo è lo spirito divino lo zeitgeist quello che volete sì d'accordo giù anche se in Hegel la ragione diventa propriamente ragione quando è ragione attiva cioè quando è legata letteralmente all'obiettivarsi dell'atto questo non va neanche dimenticato perché se la ragione non è attiva te ne stai dentro circoscritto cioè se sei nel se la ragione non è attiva sei nel fantasma sei nel cavaliere dell'intelletto che si contrappone al corso del mondo la ragione attiva è quella che invece fai rompere il suo essenziale nel corso del mondo cioè qui anche Hegel in realtà dà una bella sterzata cioè la ragione propriamente detta per Hegel è la ragione attiva che poi introduce all'etico non a caso da Hegel se andate a finire Marx va bene direi cerchiamo di lasciare perdere argumenti filosofici possiamo dire tutto sono molto importanti chiaramente queste considerazioni ma bisognerebbe calibrarle di più e credo che non potremo farlo vedremo la prossima volta cosa ci racconta di Schopenhauer come la libertà età mister che poi in realtà è malbranch ma vedremo bene arrivederci allora settimana prossima arrivederci grazie 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 arrivederci